La Sidi Gassavellino chiude con un successo la regular season battendo al pala del Mauro la Dolomiti Energia Trentino con il risultato di 78-74 in quella che era di fatto una puntata pilota dei play-off. Le due squadre si ritroveranno ai quarti di finale a partire da domenica con le prime due gare nell'impianto sportivo Irpino nella serie al meglio delle cinque. Grande equilibrio nel match con Avellino che risponde prontamente alle folate dei Trentini che sono avanti al ventesimo ma che non danno mai la sensazione di attaccare davvero la differenza a Canistri. La scandone con Rich, Wells, Leunen e Fioi in più occasioni rimpalla i tentativi della Dolomiti Energia a cui non bastano Sutton e Forrai. Finale di 78-74, quarto posto per la Sidigas che inserirà dopo Auda anche un playmaker. Avellino ha raggiunto l'accordo con Alex Renfro, classe 86, USA ma comunitario con passaporto bosniaco. Il giocatore, con trascorsi anche al Barcellona e al Bayern Monaco, saluta il Galatasaray con cui ha disputato il massimo campionato turco e la Euro Cup. Renfro raggiungerà Avellino nel pomeriggio e sarà tesserato entro il limite fissato per le 11 di domani. Sul finale di mercato Avellino si assicura un vero jolly dal gran valore in chiave play-off scudetto. Sarà turnover in più reparti nella corsa in post-season.